Tre giorni di informazione per il cittadino per la dichiarazione dei redditi. Piazza Salotto offre nell'Urban Box tutti gli esperti. Quali saranno tutte le questioni alle quali risponderete? Sì, le questioni in merito al 7.30, il modello unico precompilato, però accanto agli operatori dell'Agenzia delle Entrate abbiamo anche degli operatori dell'Ufficio Tributi del Comune, proprio per evidenziare questa sinergia tra le due amministrazioni. L'amministrazione comunale che ha voluto fare questo incontro, questa iniziativa, proprio perché è un momento un po' delicato, un momento in cui ci sono numerose scadenze e il cittadino si sente un po' oppresso, berato dalle incombenze fiscali, anche perché sono argomenti ostici, difficili da trattare e quindi si voleva dare questa opportunità.